Ramona Manolovic, partiamo dalla fine, dalla sconfitta del Salerno, ma dalla prestazione del Salerno. Guardiamo il lato della prestazione, che partita hai visto? Sicuramente è stata una partita combattuta fino alla fine, nessuno delle due squadre ha mai mollato. Ovviamente ha vinto il migliore, noi sicuramente arriviamo anche da una settimana particolare, perché ultimamente abbiamo cambiato l'allenatore, lui ha ancora tanto da darci e noi abbiamo ancora tanto da capirci con il suo gioco. Invece che Pontini hai visto? Ho visto un Pontini sicuramente che non molla mai, hanno un gioco fluido, le ragazze sono molto unite, quindi si merdono questa vittoria. Tu sei nata qui vicino, a pochi chilometri, sei anche qui con la tua famiglia, raccontaci che emozione è stata giocare davanti ai tuoi. Sicuramente Pontini è sempre stata una squadra, fin dal campionato quando giocava in affondi, è stata una squadra comunque rivale, quindi venire qua dopo tanto tempo, Pontini è arrivata dopo tanto in A1, è sempre, comunque vedi i parenti, tutte le giocatrici che magari ci giocavo contro prima, comunque è sempre un'emozione. Grazie Ramone e grazie alla mamma. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie a voi.